Stefano De Martino sta vivendo un periodo di grande successo, affermandosi come uno dei nuovi volti di punta della Rai Dopo aver ereditato la conduzione di Affari Tuoi da Amadeus, l'ex ballerino di Amici ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile fresco e simpatico Se inizialmente i telespettatori sembravano legati all'impronta data da Amadeus, ora la naturalezza e l'energia di Stefano stanno risultando vincenti, permettendogli di ambientarsi sempre di più nel popolare game shop Ma oltre al suo ruolo televisivo, De Martino è anche molto impegnato nel suo ruolo di padre Nonostante gli impegni lavorativi, Stefano cerca di essere il più presente possibile nella vita di Santiago, il figlio avuto dal matrimonio con Belen Rodriguez Nei momenti di pausa dalle registrazioni, infatti, si dedica alla famiglia, come dimostra la recente fuga in Liguria, dove è stato avvistato proprio con il figlio Secondo il settimanale Diva e Donna, De Martino avrebbe deciso di prendersi una breve pausa tra Santa Margherita Ligure e Portofino per rilassarsi con Santiago e alcuni amici Ma non è stato solo il suo lato paterno a destare l'attenzione dei paparazzi Durante il weekend, il conduttore è stato avvistato in compagnia di due donne bionde, e tra loro pare esserci stata una particolare sintonia con una delle due Il settimanale descrive un momento di complicità tra Stefano e una delle misteriose dame, avvistati insieme durante una passeggiata e un aperitivo, fino a condividere un'intima conversazione su una panchina, lasciando intuire una possibile nuova frequentazione nella vita del conduttore Nonostante le indiscrezioni, Stefano mantiene la sua riservatezza, evitando di commentare le voci che riguardano la sua vita privata Tuttavia, il gossip attorno alla sua vita sentimentale non accenna a diminuire, soprattutto ora che il conduttore è tornato al centro della scena pubblica con un rinnovato successo professionale e una sempre crescente attenzione mediatica